buon mercoledì a tutti da marcus ben ritrovati allora ieri sera un disastro io non mi aspettavo tutti questi scontrini perché ovviamente essendo nel gruppo di gianchi essendo nel gruppo di maurizio essendo nel gruppo di badessa si è amplificata questa giocata quindi 67 27 anziché 68 e 28 badessa aveva dato il 49 guardate qua in mezzo 48 e 10 vabbè io non aggiungo e non aggiungo altri commenti è guarda caso si gioca in massa e guarda guardate qua c'è un laterale doppio laterale si gioca in massa doppio laterale vabbè questa è una mia conclusione personale comunque bene io vi ripeto non mi aspettavo tutti questi scontrini una cosa fuori dal normale guardate allora io ho tirato giù esattamente 500 scontrini questa mattina e continuano arrivarne qua ce ne sono ancora 158 no e tolgo e arrivano tolgo non arrivano ragazzi non vi farò vedere tutti gli scontrini perché adesso ve lo faccio vedere in carrellata velocissimamente così ma non non ve li farò vedere tutti perché sennò non stiamo nei tempi poi allora ma parte qui da me basta così nel senso che sono contentissimo che sia arrivata questa vincita purtroppo come posizione ripeto non è arrivata è arrivato sto 58 ma guardate questo 67 e 27 piuttosto su tutte è uscito questo sfiorato interno con 48 anziché 49 guardate qua 58 19 26 e 40 ma perché dico 40 perché il 90 lascia il segno del 15 dicembre ha lasciato il segno 1 2 3 4 5 6 allora sesto colpo ha sganciato il 40 ve l'avevo detto che o arrivavo al 4 o il 40 perché il 90 era in quarta posizione ed è arrivato al sesto colpo guardate qui e si agganciava con 58 19 chi l'aveva giocato ovviamente sulla nazionale ovvio che uno non può giocare tutto hanno vinto coloro che hanno potuto giocare anche sulla nazionale e su tutte ragazzi è un gioco quindi non prendiamocela è vero che spendiamo tanti soldi lo spese anche io però adesso vedremo con le nuove previsioni di centrare il punto ora su 10 previsioni una è andata male ragazzi cioè nel senso male buono nel senso che non si è centrato a ruota tutto quello doveva uscire sono contento per altre persone che hanno vinto comunque il 58 88 aggiungendo la terzina simmetrica 28 58 68 78 88 eccetera eccetera hanno preso comunque 58 88 per loro conto ma anche 58 14 perché io vedo anche dei scontrini mi sono arrivati con altri vostri numeri quindi non solo avete abbinato 58 coi miei ma coi vostri e comunque si avete vinto lo stesso questa è una vincita un po particolare perché uscendo il doppio ambetto non si è realizzata la vincita concreta che tanti di voi si aspettavano ma sicuramente adesso poi col tempo prenderemo altre vincite non ne sono bisogna piangersi addosso è vero i soldi li abbiamo spesi e non abbiamo alcuni non abbiamo non hanno proprio recuperato quello che volevano da parte mia io ce l'ho messa tutta quindi se non escono questi numeri purtroppo è così allora e sentite i rumori stanno rimando con gli scontrini e allora il 90 la sansegno vi stavo ripetendo è uscito il 40 adesso guardate un po di nuovo il 26 è uscito di nuovo il 90 in terza quindi qua sicuramente arriva oltre al 30 guardate il 330 non è ancora arrivato quindi qua c'è già un 3 30 e guardate ancora ieri il doppio 90 quindi guardate fate sempre la diametrale 1 2 3 4 e 5 quindi qua o il 4 40 qui o il 4 40 a bari come strati semplici come è stato in posizione proprio sulla quarta posizione come ambo secco poi firenze di nuovo il 2 quindi 1 2 3 4 e 5 roma la sua diametrale e 2 e 20 qua e 2 e 20 qua o come è stato determinato come strati semplici o come ambo secco 2 e 20 o ambetto quindi 4 40 ambetto qua 4 40 ambo ambetto qua 2 e 20 ambetto qui o ambo o 2 e 20 ambo ambetto qua cioè ragazzi il 90 la sansegno ha davvero dato il suo frutto e ha dato proprio il 40 come vi dicevo avevo detto ho esso il 40 al 4 guardate un po' e c'è che qualcuno di voi ha agganciato il 58 19 40 col 26 di badessa ma attenzione 26 40 mi sembra che era una previsione di badessa nel suo gruppo poi vi faccio vedere un'altra cosa guardate qua io nel video avevo fatto vedere proprio che c'era una previsione proprio forte che dava di nuovo il 85 58 su bari su tutte guardate un pochettino è stato veramente così ma guardate qui 58 26 al secondo colpo questo è nazionale da recupero è guardate cosa ha dato ha dato l'ambo secco in due colpi e guardate può ha dato l'ambetto a bari guardate che roba questo per farvi capire che i miei sistemi funzionano quindi adesso ci sta l'incazzatura ci sta la gioia perché ha giocato su tutte però ragazzi è così il gioco dell'otto ma vedremo di centrare di nuovo come è successo con genova torino milano e bari con tante altre ruote che abbiamo vinto l'ambo secco vedremo adesso con la nuova previsione poi di centrare la visita su ruota è andata così dai questa è andata poi nel pomeriggio farò un altro video con la previsione adesso ho voluto fare questo video qua solo velocemente per farvi vedere quello che è successo ieri e i miei sistemi perché guardate che nazionale da recupero io l'avevo detto nel video precedente vedrete che sul 58 si affaccerà o l'85 58 si riaffaccerà di nuovo su tutte le ruote così è stato così è arrivato su bari con 58 70 guardate qui adesso ve lo faccio rivedere qua tramite lo specchiettino ok 58 70 pensate se c'era un 49 o un 19 c'era una quaterna su tutte comunque vedete le decine come si interagiscono con gli studi che faccio non l'hanno fatta arrivare a ruota ovviamente ci saranno state 30.000 giocate fra tutti i canali nostri di maurizio di gianchi e di badessa e quindi c'è stato un impatto forte sulle giocate comunque questo è un mio parere poi magari posso anche sbagliare però fatto sta che le fanno uscire a mondo mio dico sempre su tutte quindi 58 70 e 58 e 19 sulla ruota nazionale come ruota di scorta e vi ripeto arrivato al 40 dal 90 lascia il segno adesso i prossimi 90 sono usciti qui però questo è un pronostico e non è la previsione vera proprio è quindi due o venti qua su firenze due venti su roma 4 40 su napoli 4 40 su bari poi ragazzi questi sono consigli che vi do e poi c'era anche un 90 su la nazionale in terza posizione pronta ad arrivare oltre 30 oltre quindi potrebbe essere anche collegabile con la previsione di maurizio 5 50 3 30 e come ruota di scorta nazionale quindi 5 e 3 30 proprio sulla nazionale quindi occhio perché la previsione di maurizio potrebbe riflettere veramente sulla nazionale dato che c'è questo 90 che 12 secondo colpo questa sera potrebbe dare oltre oltre 30 quindi valutate voi questi sono gli scontrini vi faccio vedere cosa 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 ho tirato giù stamattina guardate qua cioè ragazzi io sto andando fu velocemente col click perché non c'è una cosa assurda guardate qua una cosa assurda guardate e mi fermo un attimo guardate qui 159 guardate stanno arrivando io continuo a scaricare arrivano io quindi così ragazzi mandatevi però io più più di tanto non riuscirò a rispondere neanche al messaggio perché è così allora guardate io vado avanti oggi pomeriggio e farò il video comunque con una nuova previsione ok quindi questa è una bozza di quello che vi ho detto il 90 mi stavo dimenticando aspettate mi state mandando anche i scontrini della classifica del 90 firenze se non sbaglio fire sentite il messaggio che arriva firenze allora sì firenze guardate qua allora 90 90 in seconda e 90 in seconda guardate qua quindi non solo quelli mi stanno arrivando del 58 ma anche del 90 della classifica quindi ragazzi vedete che i miei sistemi le ricerche che si fanno funzionano se non si vinci di qua si vinci di là comunque createvi sempre un metodo cioè un metodo createvi sempre una previsione vostra con i miei metodi se volete ritenere giusti i miei metodi provate sempre i miei metodi allora poi ci sarà la classifica del 90 più avanti faremo un'altra classifica del 90 per raccontentare sempre ovviamente tutti però ragazzi questo sentite quanto ne stanno arrivando e questo è quanto e niente oggi pomeriggio quindi le nuove previsioni tutto con calma non affrettiamoci abbiamo tutto il tempo che abbiamo quindi oggi e domani mattina grazie ancora a tutti veramente un abbraccio veramente forte a tutti grazie di tutto marcus